Un sorriso al giorno toglie il medico di torno. Un tizio entra in una gelateria e dice Vorrei un gelato, cioccolato e pistaccio. Mi spiace ma il pistaccio lo abbiamo finito. Allora Melodia, fragola e pistaccio. Guardi, le ho appena detto che il pistaccio è finito. Va bene, allora tutto pistaccio. Due ragazze entrano in un bar, vanno al bancone e ordinano due caffè decaffeinati, se li bevono e passano alla cassa per pagare. Cosa paghi? Due deca. E il cassiere? Ventimila! Un tizio entra in un bar e fa Mi dia un cappuccino e un cornetto. Il cameriere. Mi dispiace, i cornetti sono finiti. Allora mi dia un latte macchiato ed un cornetto. Guardi, le ripeto che i cornetti sono finiti. Già, già, allora mi porti un tè e un cornetto. T'ho detto che i cornetti sono finiti. Ah, mi scusi, non ci sono cornetti? Grazie, proverò in un altro bar. Un cliente abituale che aveva seguito la scena si rivolge al cameriere. Ma lo sai che c'hai proprio una bella pazienza. Io al posto tuo avrei preso il vassoio dei cornetti e glielo avrei tirato in testa. Un tale entra in un bar con un uovo di Pasqua sotto il braccio e fa Un marsala! All'uovo no, a me è deficiente. Ci sono due ubriachi che usciti dall'osteria si ritrovano a camminare sulle rotaie della stazione di Pallisa. Dimmi, Beppi, ti già notato quanti scalini già a questa scala? I scalini non saria neanche a niente. Sei i mancorrenti che i sebassi. Un arabo entra in un bar a Roma e si rivolge al barista nella sua lingua. Haz el Ahmet Bahmal Cacola! Una latina di che?